Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di quello che è il rischio Italia in questo momento. Come sta andando? Dopo il mio video fatto inizio settimana, ragazzi, vi avevo anticipato che vi avrei tenuto al corrente relativamente a quelli che sono gli andamenti dello spread dei nostri titoli di Stato per capire effettivamente quello che c'è nella pentola, quello che bolle in pentola relativamente alla nostra situazione politica ed economica e saperlo, ragazzi, dai numeri, dai dati, dai grafici e non dalle inutili notizie pubblicate sulle testate giornalistiche o nei TG, che ovviamente, ragazzi, sono sempre in ritardo rispetto a quelle che sono le manovre economiche che fa l'alta finanza sui mercati. Oggi è di oggi, diciamo, la notizia della von der Leyen che per l'ennesima volta dice che la UE deve scusarsi con l'Italia, anzi, vi metto, ragazzi, lo screen, guardate, ok? La UE deve scusarsi con l'Italia. Ancora parole, ragazzi, di scuse perché durante il momento iniziale della crisi, della pandemia, non c'erano e i paesi non si sono pronunciati. Poi, ovviamente, tra un po' di tempo, mi pare, tra circa una settimana, ci sarà la notizia relativamente a quello che dirà la UE relativamente ai Corona Bond o ai Euro Bond e sapremo un po' l'esito di una serie di atteggiamenti importanti da parte dell'Europa. Allora, ancora, la von der Leyen parla da politica e, però, ragazzi, cosa dicono i dati? Quindi, da una parte, loro parlano di scuse relative all'Italia e io adesso vi faccio vedere. Negli ultimi due giorni, oggi è il terzo in questione, quello che è stato lo spread italiano, ragazzi, è quello che è stato l'atteggiamento. Quindi, dopo il grande picco, l'intervento della BCE, anzi, vi faccio la cronistoria, ragazzi. Allora, qui c'è stata l'invasione del virus, vedete, i primi di marzo. Qui si era capito che l'Italia era sotto Covid, qui le sparate senza senso della Lagarde e qui il rientro dello spread italiano quando la banca centrale decide che compra lo spread, compra i titoli di Stato per calmerare lo spread nei mercati. Da qui in poi, ragazzi, poi ci siamo stabilizzati al solito livello standard, un po' sotto i 200 punti. Cosa succede negli ultimi due giorni, ragazzi? Io vi avevo parlato del monitoraggio di questo grafico più o meno qui, ragazzi, in questa giornata qui. Guardate cosa succede. Guardate quello che è successo nelle ultime due giornate. Da quando è iniziata quella che abbiamo palesemente già visto in Italia, un pressing incredibile di natura politica e anche da parte dei mass media relativamente al Presidente del Consiglio Conte, che è stato massacrato negli ultimi due giorni anche dall'interno con la famosa maggioranza, dei soliti atteggiamenti dei partiti che compongono la maggioranza, di cui non faccio nomi, ma non ci vuole più di tanto a comprendere. Insomma, ragazzi, sull'accettazione del MES di quello che sarà o di quello che verrà, è iniziato da una parte la morsa del pressing politico e dall'altra, guardate, l'atteggiamento lineare pilotato dello spread italiano, che torna su a schiacciare ancora una volta le decisioni politiche che aveva preso il Presidente del Consiglio Conte nelle ultime settimane, quindi un po' con forza aveva rinnegato l'utilizzo del MES, ragazzi, arriva la morsa palese dei mercati, guardate, è palese, ragazzi, ok? Spread in picco su, è morsa dall'interno politico, pressing sul nostro Presidente affinché accetti l'utilizzo di inutili fondi, perché sono inutili, ripeto, sono troppo pochi per l'Italia, non cambiano niente, consentirebbero solo di respirare, ma non di lanciare l'economia, di stare di nuovo e ancora una volta attaccati alla sussistenza dell'Europa, quindi non una vera crescita. Oggi le parole di scusa della von der Leyen si infrangono, ragazzi, davanti ai dati, guardateli in maniera chiara, cioè purtroppo amareggiato, vi dico queste cose. Oggi lo spread provava di nuovo a rientrare e queste candele di riposo, ragazzi, sono dovute agli acquisti della Banca Centrale Europea, che blocca questo rialzo. Voi notate questo rialzo nonostante il blocco della Banca Centrale Europea. Il mercato sta spingendo, come già fece, ragazzi, nel 2011, sta pressando e politicamente agendo sulle decisioni del governo attraverso i soliti giochini di manipolazione e pressing politico. Ragazzi, lo so che sono argomenti duri da digerire, non sono di nessuna fazione politica, non c'entra nulla. Qui guardiamo dei dati che sono oggettivi, un bombardamento di massa dei mass media negli ultimi due giorni sulle decisioni relative al MES e l'incremento nuovo concomitante, ragazzi, pilotato dello spread italiano, perché c'è paura che in Europa questi Eurobond non vengano accettati. Vi avevo promesso di guardare questi dati e li stiamo guardando, guardiamo anche il BTP italiano. Questo è lo short term Euro BTP Futures relativo all'Italia. Vi faccio anche qui la cronistoria, ragazzi, questo è ribasso, che vedete, anzi, mettiamo il daily così lo guardiamo in maniera un pochettino più chiara. Allora, quello che vedete qui, questo crash, è la vittoria alle elezioni politiche del Movimento 5 Stelle, la nascita del governo giallo-verde, il mercato lo prende malissimo, spread alle stelle e BTP che scende. Poi, qui si riprende con la situazione invece del nuovo governo, più o meno, insomma, in questa fascia qui, ragazzi, e dopodiché, insomma, vedete, da qui in poi, ad agosto 2019, nuovo governo, questo invece è la situazione Covid, ragazzi, di nuovo. Eravamo ritornati qui dopo la crisi del virus iniziale, con gli acquisti della Banca Centrale Europea, di nuovo, negli ultimi giorni prosegue il trend ribassista del titolo di Stato, short term, proprio quelli che subiranno maggiore impatto da un'eventuale crisi dello Stato italiano, ragazzi. Di nuovo, ancora, questo trend ribassista. Qual è la figura tecnica in questo momento che dobbiamo tenere sotto controllo, ragazzi? Un classico triangolo, ovviamente, irrilevante, diciamo qui, ragazzi, la struttura dei minimi, insomma, sapete, qui non stiamo, stiamo parlando di, non di analisi tecnica al dettaglio, chiamiamoci così, non stiamo facendo trading, ma stiamo cercando di far capire la situazione. Ragazzi, questo triangolo sarà la nostra, la nostra incudine. Allora, se si romperà e il trend inizierà a scendere nuovamente, vuol dire che da un punto di vista europeo non si troverà soluzione e l'Italia sarà in grave crisi. Un'eventuale rottura di questa figura ribassista e del BTP italiano, così come un incremento dello spread, ragazzi, al di sopra dell'area famosa di tensione, adesso vi faccio rivedere le aree che sto seguendo da un po', ho fatto diversi video, ragazzi, sul canale, quindi un incremento dello spread qui già in area 330, quindi alla parte alta dell'area di tensione, provocherebbe nuovamente una importante pressione politica sul nostro paese e le scelte sarebbero, non dico obbligate, ragazzi, però bisognerà comprendere anche quanto l'influenza, vedete, dei mercati esteri e di forze che non hanno a che fare con la nostra, diciamo, politica, poi può impattare sul nostro mercato. Al momento, se dovessimo prendere una decisione su cosa sta succedendo e quale dei frangenti stanno vincendo, in questo momento, ragazzi, i mercati dicono che l'eurobond non ci sarà e il rischio che questo eurobond non venga messo in piedi c'è, tant'è vero che da due giorni il mercato è ritornato a salire e in concomitanza sono tornate le pressioni politiche del nostro Presidente del Consiglio. In questo momento sembra addirittura essere lasciato da solo. Oggi la von der Leyen parla di UE che deve prendere una decisione che non sia il classico gioco del gatto e la volpe. E la volpe perché da una parte la Commissione della UE dice una cosa, il Presidente di Commissione, però poi dall'altra, ragazzi, i mercati dicono la verità. I mercati dicono sempre la verità con questi atteggiamenti. Ora, fintanto che queste due giornate di rialzo, ragazzi, restano così, quindi sarebbe un rialzo isolato, nulla è cambiato e ancora la partita è aperta, ma se da domani dopo domani inizieremo a vedere questo tipo di atteggiamento, ragazzi, un rientro in questa fascia, state tranquilli che i mercati stanno già prendendo la loro decisione, non ci sarà nessun euro bond e la politica europea continuerà ad essere quella che abbiamo visto in questi anni vergognosi da alcuni punti di vista. Poi quelli sono opinioni soggettive, ragazzi, quindi ovviamente non mi permetto qui di dire la mia opinione a tal riguardo, ma ne ho già espressa in alcuni video. Fatemi sapere voi cosa pensate in questo momento, ma ricordate sempre quando vedete qualche news o qualche notizia, anche di leggerla filtrandola da questi numeri che vi do nel canale, ragazzi, fatti esclusivamente ad hoc, per dirvi cosa sta facendo il mondo finanziario, cosa dicono i numeri che sono oggettivi e non opinabili e sono rimasto allibito della concomitanza, ragazzi, di pressing tra l'incremento dello spread e il pressing mediatico e rincominciato nel nostro paese che a volte, non vi nascondo, mi lascia basito per il fatto che sembra palesemente pilotato da altre forze che non rientrano nel nostro paese, ragazzi. Sono rimasto basito da questi due giorni, lo potete immaginare perché i numeri non mentono mai, è la cosa, non può che farmi dispiacere. C'è ancora la battaglia aperta, si spera che questa battaglia per gli eurobond sia ancora in fase di gioco. Le forze politiche si muovono, ragazzi, vedremo nei prossimi giorni. Vi ero aggiornati con questi grafici, come sempre, per buttare una lente di ingrandimento su questo momento e cercare di darvi la verità, quella oggettiva dei numeri e non quella delle mie opinioni, ragazzi, che in questo caso non c'entra assolutamente nulla. Vi ho solo fatto vedere lo spread che sta salendo e il BTP, l'avete visto, insomma, di nuovo in fase discendente. Ma la von der Leyen dice che la UE si deve scusare. Cosa? Ce ne facciamo delle scuse. Ciao a tutti, ci rivediamo nel prossimo video.